Antonello, un ricordo, visto che hai fatto questo film sul Giulio Cesare, un ricordo dei tuoi tempi di scuola? Il ricordo dei miei tempi di scuola è legato ai grandi avvenimenti degli anni 70, ma soprattutto all'assassinio di Serpico, il poliziotto ucciso davanti al Giulio Cesare. Fu la prima volta che il terrorismo entrava in una scuola e è una cosa indimenticabile, questa sera lo ricordiamo. Grazie mille! Grazie mille!